ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come sbloccare il trofeo in ghost of tsushima cosplay del clan cooper per sbloccare il trofeo tutto quello che dovete fare è vestirvi come sly cooper quindi la prima cosa da fare è ottenere tutto il necessario vi ho mostrato in due video come sbloccare o meglio dove trovare la fascia del cama corrotto che è quella di sly questa qui in un altro video vi ho mostrato dove trovare la diciamo la spada tanuki scaltro o meglio il kit per la spada che è quello di sly e in questo video vi spiegherò come sbloccare definitivamente il trofeo quindi dovete procurarvi il kit per la spada di cui vi ho già parlato poi dovete procurarvi la fascia del cama corrotto con il logo di sly cooper di cui vi ho già parlato e indossarli poi procurarvi l'armatura di gosaku che potete ottenere verso la fine del gioco praticamente cioè una volta che avete finito il gioco in una delle missioni secondarie e acquistare la tintura che vi ho mostrato poco fa e naturalmente equipaggiarla cioè questa praticamente una volta fatto questo sbloccherete il trofeo potete acquistare la tintura da un qualsiasi mercante con questa icona quindi andate su tintura per armatura andate su l'armatura di gosaku che adesso ovviamente non compare più a no eccola e acquistate guardiano dell'oceano quindi ricapitolando per sbloccare il trofeo avrete bisogno della fascia di cui vi ho parlato in un video della del kit spada di cui vi ho parlato in un altro video dell'armatura di gosaku che potete ottenere da un'apposita missione una volta che avete completato il gioco e infine la tintura guardiano dell'oceano per l'armatura di gosaku che potete acquistare in cambio di fiori da un qualsiasi mercante equipaggiate il tutto e il trofeo è vostro